Sono Francesco Conti e sono il vice allenatore di Marco Giampaolo. Torno alla Sampdoria dopo un'annata straordinaria del 2010 e speriamo di avere altrettanta fortuna. Mi chiamo Fabio Micharelli, sono un collaboratore del Mister e lavoro con Marco da 12 anni. Abbiamo vissuto insieme tutta l'avventura nel calcio che conta e sono molto felice di essere qua alla Sampdoria. Mi occupo essenzialmente di videoanalisi, di studio degli avversari, di realizzazione di tutto quello che la squadra deve vedere per preparare al meglio le partite. Il lavoro di videoanalisi che si fa per preparare le partite ha sempre e comunque un transfert sul campo e ovviamente curando tutti i particolari, quindi la fase di attacco, la fase di difesa e tutte le palle inattive. Ciao, sono Andrea Sardini, sono il preparatore dei portieri e questa è la mia quinta stagione che sono alla Sampdoria. Contento e felice di essere qua. Siamo qua per lavorare, non vedo l'ora di cominciare e di far lavorare come si deve Viviano, Pugioni e gli altri ragazzi. Mi chiamo Stefano Rappetti, sono un preparatore atletico e lavoro nello staff di Marco Giampaolo. Abbiamo incominciato a lavorare insieme da pochissimo tempo, abbiamo avuto un feeling eccezionale dal punto di vista della programmazione del lavoro. Io mi occuperò di coordinare tutti i preparatori che avremo a disposizione, lavorerò a stretto contatto con Roberto Perisutti, Massimo Catalano. Speriamo di poter fare un buon lavoro, sono veramente contento di essere arrivato. Mi chiamo Roberto Perisutti, sono il preparatore atletico dello staff di Marco Giampaolo, lavoro con lui dal 2003 e quest'anno collaborerò con lo staff e in stretta collaborazione con Stefano Rappetti. Il periodo di pre-ritiro è fondamentale per conoscere il resto dello staff che si integra con noi e per conoscere anche i nuovi ragazzi. Sono chiaramente molto contento di essere approdato in una società molto importante come la Sampdoria. Mi chiamo Agostino Tibaudi, preparatore atletico, questa è la mia settima stagione alla Sampdoria, dove sono ritornato l'anno scorso per seguire Antonio Cassano. Peraltro l'ho seguito anche nelle sue precedenti esperienze con altre squadre. Sono Massimo Catalano, preparatore atletico, è il mio quarto anno qua, sono arrivato qua nel 2012 e mi occupo principalmente di preparazione atletica e soprattutto se c'è qualche infortunio o più. Ci dedichiamo anche al recupero degli infortunati. Sono Umberto Borino, il mio ruolo è quello di riabilitatore di campo. Il mio ritorno è perché sono già stato qui l'anno di Ferrara. Io mi occupo del recupero degli infortunati, quindi farò da tre riunioni tra lo staff medico-sanitario e lo staff tecnico. Utilizzerò molto il lavoro in acqua, oltre alla prima fase di riatletalizzazione.